No, facciamo una scorciatoia. Seguitemi. Grazie per il suggerimento, Riff. Ma proseguiremo da questa parte. Ma perché? Trek, c'è una ragione per cui la tua idea sarebbe migliore. Ciao, ragazzi. Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo. E non è vero che ho paura dei Morkogon. Non dimentichiamoci della cosa più importante. Che io sono il migliore nelle missioni. Ho attivato quei tre sigilli così facilmente. Il fuoco è il più forte. E io sono il più forte. Non sono orgoglioso. Non c'è orgoglio dove c'è verità. Oh, aspetta. Hai ragione. Forza, Riff. Ha il braccio incastrato. E dimmi, perché mai hai infilato il braccio dentro a un albero? È tutta colpa di Aaron. Continuava a dire che temeva fosse un'enorme bocca. Così gli ho dimostrato che stava facendo lo sciocco. Dunque, che cosa c'è dentro? La mia mano. Wow, il sigillo sta sprofondando. Anche io. Sicuro? Credo sia meglio andare da quella parte. Scherzo. Sto scherzando. No. 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 Grazie.